Dal 1 gennaio partirà l'effettiva applicazione delle nuove regole riguardanti la ZTL di Vigevano. Saranno quindi attivate le telecamere di videosorveglianza e chi non seguirà la nuova normativa verrà sanzionato. L'intera procedura di controllo sarà digitalizzata per mezzo delle telecamere posizionate ai varchi. Per coloro che sono in possesso del permesso, non sarà quindi necessario mostrare il tagliando o il contrassegno. Verrà sanzionato chi non ha il permesso, chi svolgerà l'attività di carico e scarico fuori dagli orari decisi dal comune e chi non seguirà il percorso obbligatorio. Ad esempio, coloro che arrivano da via Caduti per la Liberazione possono uscire solo da via Giorgio Silva. Se venissero sorpresi in via del Popolo o in via 20 Settembre sarebbero sanzionati. Le fasce orarie dedicate al carico e scarico sono state ampliate in tutta la ZTL, nelle prime ore del mattino, dalle 5 alle 10. Per quanto riguarda l'area pedonale di Piazza Ducale, sarà anche qui consentito il carico e scarico, ma in precise fasce orarie, lunedì, martedì e venerdì dalle 6 alle 10 di mattina. Anche i residenti potranno circolare al medesimo orario. In occasione delle prossime festività, però, l'amministrazione comunale ha stabilito di sospendere la ZTL domenica 24 e 31 dicembre. Sono giornate nelle quali le famiglie hanno necessità di acquistare in misura maggiore prodotti alimentari presso esercizi commerciali del centro storico. Questa la motivazione della Giunta.